è lei regina il capo di stato della gran bretagna ed è tenuta a dare la sua benedizione a tutti i progetti di legge approvati dal parlamento prima che diventino legge ma qual è la convenzione nota come queen's consent e perché ci sono richieste per l'abolizione diritti è possibile disdire in qualsiasi momento la regina elisabetta seconda 95 anni è una monarca costituzionale e sebbene abbia incontri settimanali con il primo ministro britannico i suoi poteri politici sono limitati tuttavia ci sono richieste per l'abolizione di un processo noto come il consenso della regina e un'indagine in corso da parte del guardian mira esporre quella che ritiene essere una procedura segreta che secondo lui consente alla famiglia reale più influenza politica di quanto sembri l'assenso della regina e il consenso della regina sono due convenzioni separate entrambe legate ai rapporti della regina con il parlamento punto mentre l'assenso della regina è il processo mediante il quale la regina firma i progetti di legge prima che vengano trasformati in legge il consenso della regina è effettivamente quando la regina concede il permesso al parlamento di discutere un disegno di legge prima che diventi legge una descrizione dei poteri costituzionali della regina sul sito web della famiglia reale afferma che sono puramente formali una spiegazione dei poteri politici della regina recita il ruolo del sovrano nell'emanazione della legislazione è oggi puramente formale sebbene la regina abbia il diritto di essere consultata incoraggiare e avvertire i suoi ministri tramite udienze regolari con il primo ministro ministro una spiegazione dell'assenso della regina recita l'assenso del sovrano è richiesto a tutti i progetti di legge approvati dal parlamento affinché diventino legge l'assenso reale consenso a una misura che diventa legge non è stato rifiutato dal 1707 mentre il consenso della regina è descritto come segue è anche una convenzione consolidata che il parlamento chieda alla regina di fornire il consenso che è diverso dall'assenso per la discussione di progetti di legge che influirebbero sulle prerogative o sugli interessi della corona la spiegazione aggiunge dove viene dato il consenso della regina è indicato in ciascuna camera del parlamento e registrato in ansar nei tempi moderni il consenso non è stato negato se non su consiglio del governo il sito web reale continua a descrivere in dettaglio i limitati poteri politici della regina spiegando come anche il discorso che pronuncia l'apertura del parlamento ogni anno sia scritto per lei dai politici grazie a tutti grazie a tutti